Siamo gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell'inducandato statale San Benedetto in Montagnana, in provincia di Padova, e siamo orgogliosi di dare voce ai veneti antichi che vissero in questa terra compresa tra i Colli Euganei e l'Adige, più di 2000 anni fa. I tanti reperti archeologici che ci hanno aiutato a ricostruire la loro storia si trovano al Museo Nazionale a Testino di Este. La nostra principale fonte di conoscenza è dove è esposta la sitola Benvenuti, un vaso in lamina di bronzo, inciso e sbalzato con immagini di uomini, animali e tanti dettagli curiosi. Ci siamo immedesimati nei nostri antenati, lasciando anche spazio alla nostra creatività ed ecco il risultato del nostro lavoro.